buongiorno a tutti oggi voglio provare a filare una fresa vediamo se ci riesco adesso regolo l'inclinazione 16 gradi più o meno e non guardate le saldature perché non sono ancora tanto pratico non guardate le saldature con la piazza Grazie a tutti. 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 Adesso cambio l'inclinazione, lo metto a 6 gradi circa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.